È un videogioco sul viaggio virtuale nella Milano del 400 con Leonardo, il vincitore di Videogame Milano, il bando promosso da provincia e camera di commercio per sostenere le piccole e medie imprese del settore. Finalmente oggi la tanta attesa premiazione di Videogames Milano, in cosa consiste? Ma è un premio innanzitutto che è all'interno di un progetto con camera di commercio per la valorizzazione delle imprese creative. All'interno di tutta quest'area abbiamo pensato di valorizzare in particolare le imprese che operano nel campo dei videogame, che è il settore nel campo ludico che oggi in Italia rappresenta il maggior fatturato rispetto a tutte le altre imprese. In tutto il mondo sta crescendo questo settore, in particolare in Canada e in Francia. Anche in Italia abbiamo voluto dare un segnale di un settore assolutamente in crescita. Il premio ha quattro vincitori, il primo che riceve un premio in denaro di 33 mila euro. Gli altri tre hanno un voucher per poter partecipare a novembre a Montreal, a questa fiera internazionale dei videogame che è la più grossa fiera internazionale del settore. Come la Camera di Commercio sostiene la creatività? La Camera di Commercio di Milano è particolarmente attiva nel settore della creatività. Guardate, un bando come quello di oggi è un bando particolarmente creativo, se possiamo utilizzare questo nome, questa definizione, proprio perché va verso un settore che spesso e volentieri viene visto solamente in chiave ludica, in chiave di gioco. In verità il gioco è un business. Basti pensare che questo è un mercato che vale più di un miliardo e cento milioni di euro sul mercato internazionale. Si vende circa 33 in Italia, si vendono circa 33 videogiochi al minuto, 5 console al minuto e la quota parte delle aziende italiane, milanese in particolar modo, è ancora troppo bassa. Ecco perché noi oggi siamo qui proprio per cercare di stimolare attraverso anche un settore come quello del videogaming la partecipazione creativa anche da parte delle imprese milanesi. E poi c'è anche una considerazione in più. Sicuramente i videogame sono ormai una piattaforma attraverso le quali si fa anche promozione territoriale. Ecco, talvolta vediamo che Milano è poco presente in alcune piattaforme, in alcuni videogiochi. Questa è anche una modalità per cercare un po' di far conoscere Milano anche ai giocatori, anche a coloro che usano videogiochi, che sono ormai sempre di più di tutte le fasce sociali e di tutte le età. Abbiamo avuto l'idea di realizzare un'avventura grafica da lanciare su iPad e iPhone che consenta al pubblico di vivere delle mini avventure in luoghi di Milano ambientate nell'epoca di Leonardo e legate a invenzioni e realizzazioni di Leonardo da Vinci. In questa avventura il pubblico potrà appunto portare a termine dei compiti, come può essere per esempio montare una macchina di Leonardo piuttosto che dipingere l'ultima cena e con un collegamento poi alla Milano di oggi anche scoprire com'è Milano oggi e quindi sarà anche una promozione nel mondo della nostra città. Il videogame è assolutamente ancora in fase progettuale, e quindi oggi purtroppo non vedrete delle immagini delle anteprime, però contiamo appunto entro 12 mesi di essere presenti nel mondo.